Per qualche milione di anni una isola piuttosto lunga che separava un mare esterno da quello interno che c'è tra questa catena montuosa che si chiama catena medio toscana e quella che c'è di fronte di là che è la catena dei Chianti Cetona. Sono tutte pieghe per il fatto che la Sardegna e la Portica non è l'Africa, è proprio la Portica della Sardegna, ma siccome ruotano queste catena sono una di queste spaccature per cui tra i vostri piedi e i miei ci sono 400 metri di suddello. Ti sto filmando. Questa faccia da tonta mi ha filmato. È 400 metri più alta rispetto a quella dove sto io qua. Sembra un controsenso. Ci racconta... al frescatto... Grazie.